Salve a tutti ragazzi siamo in un nuovo video, io sono Gaintime, a grandissima richiesta, siamo su Resident Evil 2 Resident Evil, vabbè, cioè l'avete chiesto, più che altro me l'avete chiesto a me L'anno scorso veramente tanto, costava 70€ e io per un gioco horror che mi dura 4 ore Cioè ora 4 ore, durerà una ventina di ore ma io che ci tiro fuori 5 episodi Non me la sentivo di spenderci tutti sti soldi Però è uscita la demo e quindi Non dovrei parlare io? Ah con Woz si cammina, vabbè lo sapevo è sempre così nei giochi Guardati intorno, corri Ah ok, questa contateca una demo Allora io non ho mai visto un gameplay su questo gioco in vita mia perché mi fa veramente schifo No Non credo di dover fare questo per adesso Credo c'entri qualcosa a quello dove sono spawnato che non ho toccato Anche qua c'è roba Non ho trovato cerchi ancora Siamo bloccati all'ingresso quindi forse dovevo davvero fare quello O forse qua devo cliccare Ok alza su No vi prego Esplora l'est Buongiorno Ero venuto qui per bere una coca cola No coraggio cosa io voglio la coca Buongiorno Qua ci muoio di paura lo so già Cosa ho lasciato? Niente Salve a tutti sono candidato alle elezioni americane 2020 La radio non funziona Cosa mi è servito venire qua? Ma lei stava aspettando che mi candidassi Volevo soltanto portare un good video for youtube Mai andare nel bagno delle donne senza permesso Però io vorrei entrare se permettete eh Cosa c'è qua? Vabbè nel cesso trovi gli spray medici Perché se io mi devo curare devo andare nel cesso Così trovo lo spray medico Qua c'è il cesso intasato ovviamente di spray medici Oddio sento gente che Corcazzo Corcazzo No per me può Per me può star fuori Vieni No Vieni 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 È arrivata la prof di matematica? Oh ma i fai muove Ah pigiamo male scusate Oh Stanno Ah Ma vai affanculo vai Oh mori pezzo di merda Attenzione cosa? Non mori Sei morto? No Oh Oh e mori E che Porco Di quel porco Devi morire Mori 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 Sei morto? Sei morto? Sei morto? Sono ovunque Aspettate Aspettate so io come fare So io come fare Io sono Trump Non potete toccarmi No Vieni Venite Venite Madonna Sembri Sei la moglie Dei puffi Aggirati 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 Di qua Piliatevi la coca cola Non c'ho niente Non c'ho niente Vai 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 Aiuto No Frittaccio di pacciate Io vorrei dire una cosa Io non mi fido di quell'uomo I neri nei film muoiono sempre Quindi questo sta diventando uno zombie Non sapevo neanche ci fossi gli zombie Pensavo ci fossi chissà cosa Me l'avete richiesto in tantissimi Ho detto che cazzo Ci avrà di figo sto coso Sto morendo Sto veramente crepando No Ah ok Bello Più chiaro è come Fare il mio errore Se incontri uno di quei cosi Con la divisa o meno Tu non esitare Uccidimi O li ammazzi O scappi Chiaro Sì signore Allora il leone mangia La riete Quindi corona La corona La corona La corona Ok 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 Era giusto Ecco qua ci sta la corona Che ce l'ha il leone E di qua l'arpa se c'è No la riete Badonna Risorvitore To da milione Prima con le mani Non lo potevi fare Rimungoloide Scusa se mi permetto Non è così Che immaginavo Neanche io zio Mi immaginavo di passare San Valentino A uccidere zombie Però Avessi mai a darmi Qualche munizione in più Ora questo si alza Quello si alza Oh Fanno dammi il tempo Di arrivarci Questo si alza Questo mi viene giù Fan culo a te Tua madre Questo si anima Questo si anima Questo si anima Cosa Non la posso vedere Questa scena Il vomito Il vomito No Finestra aperta Amici In coperta Non c'ho niente Da sacqua Per questo Come dicono Ovviamente È una demo Oddio Dove sono Sono Marvin Vieni qui appena puoi Stai bene Marvin Ho qualcosa Da mostrarti È importante Ricevuto Arrivo subito Muoviti A Fan culo Vabbè Finché non mi addosso Non mi prenderete Mai Oh forse Sì Anche qua Forse uguale Ah Ule Fatto Che bello Essere dei piccoli geni Dammi questo Mappa dei piani superiori Quanto è lunga Questa demo C'ho la chiave C'ho la chiave C'ho la chiave Usa Leviamoci Dalle palle Dove stiamo? Ah Siamo all'inizio È lui che mi Dove a far vedere Qualcosa Sì Con 50 zombie Dietro Ovviamente Tutto tranquillo Ma mi ha fatto Ma vaffanculo Va Dai C'è Ero lì Mezz'ora Sono stato Per i piani Tentativi Uno Vabbè Per i piani Dalla roba Mi ha fatto scendere giù Per redermi Che dovevo risalire su Ma sei un cretino Sei Comunque Bella Bella demo Ma il gioco completo Sono contento di non averlo comprato Perché dalla paura che mi ha messo la demo Penso che sarebbero stati soltanto Soldi buttati Perché un gioco del genere Vale purtroppo 70 euro Scopri cosa tu Aspetta No Non me ne frega un cazzo Ragazzi Spero di avervi resi contenti Perché A distanza di un anno Grazie a questa demo Che è esplosa Ultimamente Sono riuscito a portarvi Il gioco Che mi avevate chiesto Cioè Resident Resident Evil 2 Vabbè C'è andato a fare 3.000 Fa Veramente Caca In mano Se questo video ti è piaciuto Lascia un commento Mi piace Iscriviti al canale Attiva la campanella Per non perderti Tutti i prossimi video Da Game Time Purtroppo Bye Ciao 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 Grazie a tutti